Molte cose passano inosservate, molte persone passano inosservate. Chi ha carattere è Glamour e si vede. Glamour boutique e Glamour jeans, perché vestire non è un optional, ma una questione di personalità. Abbigliamento e accessori moda grandi firme per l'uomo, la donna, il bambino. E a sette Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Collezioni, Guess, Gattinoni, Twinset, Versace, Michael Kors, Sun68, Manuel Ritz, Coca, Cavalli Class, Calvin Klein, Glamour boutique, Corso Umberto I 200B e Glamour jeans, Corso Umberto I 79 a Bova Marina. Info 0965 760016 o 0965 761991. Glamour, si vede.